cinema ambiente sesso e ultimo giorno siamo quasi arrivati alla fine delle proiezioni degli incontri del festival come co kids la serie di appuntamenti mattutini per i ragazzi per i bambini delle scuole del torinese in particolare la giornata di oggi iniziata con la visione di ponio sulla scogliera l'ultimo lavoro del maestro dell'animazione giapponese Miyazaki